Su un ritmo semplice che diciamo che risulta essere in questa fase un'alcola Qualcuno dice non so dov'è C'è quello che da ritmo, tema, almeno la pulsazione dobbiamo in qualche modo avercela bella chiara In questo caso la pulsazione è scandita da una figurazione che è una nota corta, lunga e due corte Questa è lunga e questa è corta C'è una sensazione che potete sentire, un mucchio di danza, quello che vogliamo, basta che cambia il campanaccio No, più grande, più grande che ovviamente Ecco il campanaccio Esatto, se la faccio eseguire con questo qua Potrebbe essere un cia 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 Potrebbe essere un'altra cosa che è appunto questa che più o meno A questa velocità non cambia cia cia cia, c'è molto più lento E quindi è una scansione semplice che comunque si è già, viene eseguito da parte del tempo E quindi lì sta la pulsazione Qualsiasi cosa faccio devo tenere presente che è una pulsazione Non posso fare come adesso quando gli aprivo la mano Che lascio il cavo, butta un muro a manetta, più uscirena, e meglio è Ma cosa che si dà dentro questa pulsazione Anche esercitando un po' anche il gusto Perché visto, non basta mai Quindi faccio Vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti